Un'operazione dei carabinieri di Crotone è stata eseguita stamane per l'esecuzione in Calabria e in altre regioni l'Udi un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP distrettuale di Catanzaro su richiesta della DDA a carico di 13 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'organizzazione, sgominata con l'operazione denominata Acqua Mala, aveva la sua base operativa nel quartiere Rom di Crotone denominato Acqua Buona e svolgeva la sua attività di spaccio anche nei paesi di alcune scuole utilizzando i minori. Per 10 delle persone coinvolte nell'operazione è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre per le restanti tre sono stati applicati gli arresti domiciliari. I carabinieri stanno in onte eseguendo perquisizioni a carico di tutte le persone coinvolte nell'inchiesta che sono complessivamente 57. Le investigazioni hanno così consentito di ricostruire gli assetti organizzativi della compagine criminali documentati anche attraverso il sequestro di un libro mastro in cui erano minuziosamente annotati i rapporti di credito-debito dell'organizzazione con i fornitori e con gli acquirenti delle sostanze stupefacenti. Documentare inoltre il traffico di ingenti quantitativi sostanze stupefacenti, accertare i canali di approvvigionamento dello stupefacente della famiglia Manetta operante nel citato quartiere Rom di Crotone, la famiglia Abruzzese operante nella città di Catanzaro, la famiglia Mannolo operante a Cutro e Comune Limitrofi, la famiglia Scerbo-Tarasi operante ad Isola Caporizzuto, le famiglie Raso-Lucisano la cui area di influenza è rizzicolo nella piana di Gioietauro. Arrestare così in flagranza 10 persone di cui un minorenne e sequestrare inoltre 330 grammi di cocaina, 1300 grammi di hashish, 215 grammi di marijuana, 26 grammi di eroina, una pistola a calibro 7,65, una pistola a calibro 9x22 e una pistola mitragliatrice del tipo MP1940.